Sì, 3-0 abbiamo giocato bene, questo è importante perché dobbiamo farlo adesso con costanza, un risultato eccezionale, però ancora c'è tutto da fare, quindi cancelliamo in fretta questa, prendendo quello che di buono c'è e ritorniamo a Pesaro con la stessa concentrazione, con la stessa voglia di far bene perché è alla nostra portata, però sappiamo che loro cresceranno anche tanto nella prossima partita, però lo dobbiamo pensare a noi e quindi sono molto contenta della partita di questa sera. In generale ma anche individualmente, insomma hai giocato una gran partita. Sì, sto crescendo, è sempre meglio l'intesa, difesa, sì sono molto contenta ma quello che conta è la squadra, quindi sono contenta di come stiamo giocando. Senti, adesso appunto ci sono 7 giorni in cui si gioca ogni 3 perché in mezzo c'è anche Novara che è un'altra partita di questo livello, cioè alto. Sì, ora si pensa a Novara perché comunque è importante anche il campionato, dobbiamo far punti più possibili, quindi pensiamo subito da domani si pensa a Novara e poi è come sempre, cioè bisogna cancellare subito e ripartire. Ora c'è Novara perché abbiamo bisogno di punti, di salire in classifica e di esprimereci, come ripeto, come ho detto prima, con costanza. Per cui una partita...